Muoversi. Infomobilità in Campania. In uscita e in ingresso in direzione Canusa. Sul raccordo Salerno-Avellino, sino alle 24 di oggi, è attivo il restringimento di careggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Fisciano-Mercato Sanseverino e l'innesto con la statale 7 bis Terra di Lavoro in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla statale 7 Appia, dalle 22 di questa sera alle 6.30 di domani, è chiusa il traffico la Galleria San Giuseppe in entrambe le direzioni. I veicoli sono deviati sulla viabilità urbana del comune di Cascano. Sulla statale 145 Sorrentina, dalle 21 di oggi alle 5 di domani, è chiusa la Galleria Santa Maria di Pozzano in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità urbana del comune di Vichequense. Sulla statale 691 Fondo Valle Siele, sino alle 17.30 di oggi, senso unico alternato in corrispondenza della Galleria Materdomini. Sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, è chiuso il tratto compreso tra i svincoli San Leonardo, Spedale e zona industriale verso Ponte Cagnano. Per i dettagli consultate il sito www.moversi.regione.campania.it, redazione Acamir Moversi in Campania, Marina D'Apice.